Buon 2013! Buon anno a tutti ragazzi, siamo ancora nel 2013 Ancora per poche ore Ecco, siamo l'ultimo dell'anno, stiamo registrando proprio oggi perché siamo originali E siamo qui per farvi i nostri auguri personali Intanto lui si abbuffa già E cosa è stato quest'anno per noi e per voi soprattutto fatecelo sapere nei commenti Sì Per noi il trampolino di lancio Un grande settembre del 2013 ragazzi Dove tutto iniziò Sì, è dove abbiamo iniziato No, è quando abbiamo iniziato E soprattutto è stato un anno di rivoluzione anche per il mondo della videoludica Next Gen dopo 8 anni di PS3, Xbox 360 e Wii Ci hanno infilato dentro le nuove Vabbè, PS4, Xbox One e Wii U che è andata l'anno scorso Ma noi l'abbiamo avuta sull'anno Adesso, quindi per noi è una nuovità Anzi, anzi, a breve vedrete anche cosa ci aspetta con questa Wii U che sembra una bella messina Vi spareremo lì qualche gioco di Mario, qualche gioco di zombie, qualche gioco di non so cosa Vabbè, faremo una recensione, nuove rubriche, tratteremo dei giochi orrendi che già abbiamo in cantiere Flop5 Epic Fail 2013 e non E niente, vi aspettiamo dell'anno nuovo Sì, con tanti nuovi video e tante novità Auguri ragazzi e buon anno Auguri a casa di concriterio anche per noi Sì Ciao